Musica C'è una bellissima coreografia da parte di Utah che iniziano a incitare i propri segni amini ricordiamo all'andata finì l'ultima partita del 2023 2-2 Studia il piazzamento dei compagni, torna da Procopio Procopio molto appotonato, adesso saccava via sulla sinistra parla Giovanni, qui per il finale dell'Alba entra in area, accende a Procopio, in avanti, palla, che passa sul palo Nani per Radoniato, ancora Nani che prova a proiettare il cavallo entra in area, la mette dentro la cava sui nostri canali di Youtube e su www.radio.pnr attenzione, Robotti, gol! Giovanni Robotti in area, si gira e in diagonale, supera Rivero, ci voleva un giocatore di qualità però arriva bene un'azerda da Poggio, poi il verso di Poggio Procopio cambia tutto, cercare Tomiato in area ha un controllo non facile, si gira e si gira la prima palla toccata da Di Salvatore ma poi ancora Marchetti che serve Mannasier che gioca un po' in tutto il campo avanza Procopio passaggio in area per Robotti, si gira Robotti e va a segnare il gol del 3-0 una magia di Giovanni Robotti è giusto poi scrivere due righe anche per chi non è potuto venire al Fausto Coppi naturalmente noi faremo di tutto per proporre le immagini di questa giornata storica il primo possibile direttore